Intro Bentornato Guter, bentornata Andiamo a vedere come accedere al Microsoft Windows Store Brevi nozioni per poter poi avviare la procedura per il download a Windows 8.1 Cos'è? Innanzitutto una premessa obbligatoria Non ti parlerò naturalmente della struttura dei negozi fisici della Microsoft ma esclusivamente del negozio Microsoft Store Online È un negozio virtuale disponibile solo via internet che vende prodotti fisici e programmi L'acquisto dei prodotti fisici naturalmente prevede una spedizione classica mentre quelli di natura virtuale come i programmi possono essere anche scaricati praticamente da subito dopo l'acquisto semplicemente grazie alla connessione internet Come accedi? Requisiti fondamentali per l'accesso al Microsoft Store sono quelli di possedere un account Microsoft già visto nella lezione precedente In possesso di tale parametro potrai accedere al negozio via browser oppure tramite il sistema operativo dopo aver avviato il computer ma tramite il tuo account Microsoft In questa lezione infatti ti parlerò del modo di accesso utilizzando il sistema operativo in modo da poter così scaricare eventualmente applicazioni, giochi, libri sincronizzare i tuoi dati personali ed altro ancora Lo scopo di questo accesso non è tanto quello naturalmente di spiegarti come utilizzare appieno il negozio ma specificamente come poterlo impiegare per trasformare la tua versione di Windows 8 in Windows 8.1 tutto in maniera gratuita A questo punto potrai senz'altro avviare l'accesso come? Dalla schermata Start di Windows 8 troverai una piastrella, un pulsante con la scritta Store qui rappresentato da questo screenshot Cliccandoci sopra avvierai la procedura per accedere al negozio online una schermata colorata tipo questa con un'immagine di una borsa con il marchio Microsoft ti intratterà per qualche secondo Successivamente avuto accesso allo Store compariranno vari riguadri, varie immagini rappresentanti alcune categorie sui quali potrai cliccare per poter scaricare gratuitamente o a pagamento programmi o file generici Le sezioni saranno svariate e potrai visionare i singoli componenti della categoria scegliendo tra le sottosezioni gratuite o a pagamento oppure nuovo Qui una rappresentazione dei libri gratis disponibili nello Store Cliccando sopra uno di questi pulsanti entrerai nella sottosezione che ti mostrerà la lista di ciò che ti offre il negozio in quella categoria Ora dovrai scegliere l'articolo visionarlo ed eventualmente scaricarlo Se hai un programma lo installerai sul tuo computer parentesi anche sul tuo dispositivo mobile se invece è un file lo scaricherai e potrai visionarlo appena terminato il download Terminato di visionare il negozio potrai abbandonarlo semplicemente chiudendo la maschera alla finestra oppure accedendo ad altre sezioni del sistema operativo Ad ogni accensione del computer l'accesso allo Store sarà garantito ma solo se accederai al sistema operativo dietro le credenziali relative al tuo account Microsoft quindi tramite le mail che troverai già preimpostata nel campo relativo e ti sarà sufficiente digitare la password per accedere al sistema operativo e successivamente al Microsoft Store Bene Goodler andiamo a vedere come accedere al Microsoft Store Facciamo apparire la chance bar andiamo su impostazioni modifiche impostazioni PC e clicchiamo sulla sezione utenti Come puoi vedere a questo punto mi trovo tramite un account locale dovrò passare ad un account Microsoft inserendo delle credenziali con i quali mi sono iscritto avendo già avuto accesso tramite un indirizzo email dovrò semplicemente digitare l'indirizzo email di iscrizione a termine clicca su avanti verrà verificato l'accesso al Microsoft Store a questo punto sarà sufficiente inserire la password con la quale mi sono registrato e cliccare su avanti dopo qualche secondo se tutto funziona correttamente avrò la possibilità di accedere all'account Microsoft qui avrò la notifica che dal prossimo accesso a Windows dovrò utilizzare queste credenziali clicchiamo su fini e attendiamo il risultato a questo punto come puoi vedere sarò passato a un account Microsoft tant'è che posso decidere di tornare a un account locale cliccando su questo pulsante ora torniamo alla schermata Start e andiamo a cliccare su pulsante Microsoft Store dopo qualche secondo potrò accedere al negozio Microsoft Store come puoi vedere una volta avuto accesso allo Store potrai individuare la categoria delle applicazioni che vorrai visionare ed eventualmente installare un'ampia scelta è fornita dal Microsoft Store per visionare ed installare un'applicazione individua innanzitutto la categoria dopo di che potrai scegliere se visionare le applicazioni a pagamento quelle gratuite oppure le ultime novità clicchiamo in questo caso nella categoria notizie e medio andiamo a visionare quelle fornite gratuitamente qui avrò riportata la lista delle varie applicazioni supponiamo di voler scegliere il medio cliccando sul pulsante relativo potrò accedere alla descrizione di questa applicazione qui posso visionare una descrizione dell'applicazione ho degli screenshot esplicativi che mi danno un'indicazione di massima di quel che sarà questa applicazione posso leggere i dettagli ed eventualmente le recensioni fatte dalle persone dopo aver deciso eventualmente per il download vado a scaricarla ed installarla cliccando semplicemente sul pulsante installa attendo il tempo necessario affinché avvenga il download dell'installazione la notifica dell'installazione la ottieni in questo momento in alto a destra qui puoi visionare il processo di download e al termine l'installazione avrà luogo ecco che si sta installando l'applicazione l'applicazione è stata installata ora sarà sufficiente andarla ad avviare eccola qua completamente in mostra dopodiché non ti resterà che interagire con la stessa ora senza scendere nei dettagli della funzionalità torniamo allo store come puoi vedere c'è un'ampia possibilità di scelta in base alle tue necessità parentesi è che queste stesse applicazioni potranno essere utilizzabili anche sui dispositivi mobili che installano ovviamente il sistema operativo della Microsoft nella prossima lezione ti inizierò a parlare di Windows 8.1 ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Gallo e alla prossima